una musica rilassante potrebbe andare bene per un video vincente di un massaggio ma non basta in tre punti vi dirò come organizzare un video vincente per un massaggiatore un estetista punto primo il video deve essere prodotto in una cabina di trattamenti pure in una location particolare all'esterno in contatto con la natura punto 2 un video durante un massaggio un trattamento dove dobbiamo vedere la tua manualità a monster punto 3 non ci deve essere la tua voce non ci devi essere tu che spieghi il trattamento ma dei sottotitoli oppure una voce fuori campo ora mi fermo ecco un esempio trattamento della cervicale un impastamento osserviamo una manualità armoniosa